arrivavano di delle segnalazioni che c'erano delle truppe che tornavano dal fronte dalla garfagnana e facevano la strada di filizzano di filizzano il valico del cereto e venivano verso castelnuovo monti verso la pianura per dare il mettevano truppe fresche al fronte insomma ma che erano due o tre mesi che erano lì e allora arrivò questo quest'ordine di minare minare cosa vuoi minare ormai dei ponti non ce n'erano più c'era rimasto un affarino lì che lo chiamavano il foglione noi allora avevamo tanto tritolo perché lo buttavano giù gli aerei allora veniva giù molta roba e andammo su i tedeschi erano già un po stanchi anche loro di guerra secondo me perché era una un c'era una luna bellissima una bella serata tranquilla quasi da primavera loro avevano una postazione di mitrali e non molto lontana noi avevamo preso le misure abbiamo messo due distaccamenti uno di qua uno di là due squadre in maniera da poter lavorare tranquilli infatti abbiamo lavorato tranquilli abbiamo messo 45 kg di tritolo plastico era un po come la shaving gum poi ho messo tutta la miccia e poi abbiamo dato fuoco siamo andati un po giù perché piovevano le pietre e in sostanza che ci sono tornato a vedere a guerra finita non solo aveva portato via quell'affare lì l'arco lì ma aveva preso anche due o tre metri di strada destra e sinistra perché tanto 45 kg sono tanti insomma ecco e quando sono arrivati loro hanno dovuto fare un ferro di cavallo con l'importanza del fermarli perché può impedire alle truppe di arrivare 24 ore prima al fronte quando c'è l'offensiva e hanno dovuto dopo zappare il monte fare un ferro di cavallo a monte per poter passare insomma no però intanto devi farlo e devi farlo con delle zappe non è che ci erano le russi pe l'ora